Uno dei motivi per cui Rode risulta essere sempre la scelta migliore da fare per qualsiasi tipo di filmmaker indipendente o anche in produzioni professionali dove serve un audio di qualità in camera è per la sua affidabilità, la sua qualità e soprattutto per il fatto che tira fuori sempre prodotti che centrano il bersaglio e le esigenze di noi filmmaker. Ed oggi vi voglio parlare proprio di una di queste ultime meraviglie targate Rode, il Rode VideoMic Go Mark II. La versione 1 aveva qualche difettuccio per come la vedo io, era un po' rumorosa, aveva una circuiteria interna per quanto minima quindi quasi indefinibile come tale appunto come circuiteria però comunque aveva una costruzione che non mi aveva mai convinto così appieno. Ho sempre preferito usare il video micro che pur essendo una figura polare completamente diversa mi dava una maggiore affidabilità soprattutto per l'uso per il quale era predisposto per quanto mi riguarda cioè fare vlog realizzare video comunque in giro per il canale YouTube ma anche matrimoni continuo a preferire il cardioide nei matrimoni perché ha una diciamo presenza migliore per come la vedo io durante i matrimoni non mi serve essere così direzionale se non durante le letture ma le letture comunque la chiesa è microfonata particolari pipponi inutili di cui non vi voglio parlare non vi voglio tediare in questa recensione questo è un video tutto dedicato a lui. Una costruzione ragazzi è tanta roba è fatto veramente bene ha questo sistema con binario questo rail che permette di spostare la vite dove ci serve e quindi bilanciare meglio la nostra fotocamera e poi attraverso l'hotshoe della fotocamera appunto fissarlo saldamente e avere una stabilità notevole anche perché questo shock mount che hanno fatto lo reputo leggermente superiore agli altri il materiale sembra probabilmente più sviluppato meglio ecco più resistente nel tempo da questa impressione soprattutto poi è doppio come potete vedere quindi ha sicuramente una migliore resistenza a un cable management qui pazzesco che permette di incastrare il cavo come si deve qui niente questo è un tappino ricorda il nuovo ntg che anche la regolazione volume questo non ce l'ha ma all'uscita qui per il jack è una porta usb è un plug play cioè nel momento in cui viene installato e collegato alla camera funziona si alimenta con una cinque volte direttamente la fotocamera e va bene così la figata però è che può funzionare collegato a un dispositivo esterno quindi può essere usato come una vera e propria scheda audio sul nostro pc o mac indifferentemente abbiamo sul sito che trovate linkato qui sotto della rod sulla paginetta dedicata trovate direttamente il download sia per versione pc che per versione mac addirittura con un adattatore può essere utilizzato con road central che è l'app che trovate linkata qui sotto anche sul telefonino serve però un adottatore delicato che non è ovviamente incluso nella convenzione che tipo di microfono è un microfono super cardioide ed ha la possibilità di reggere tra virgolette una pressione sonora massima di 110 decibel spl che più o meno anche come valore lo stesso del suo prezzo lo so è una cazzata però comunque è curiosa è una butad nel senso quanto costa questo oggettino meraviglioso costa in tutto il resto del mondo 100 euro o 100 dollari da noi costa 111 perché noi siamo italiani e su amazon deve costare per forza un po di più del resto del mondo se no non è contento lo stato italiano con le tasse trovate comunque il link in descrizione per acquistarlo un link sponsorizzato quindi acquistate al prezzo identico che trovereste se ve lo cercate con le vostre ditina ma amazon mi da una piccola percentuale vi sostiene del canale eccetera eccetera un altro modo per sostenere il canale lo trovate qua sotto il pulsantino grazie se lo cliccate e viva offritemi un caffè è buona così cipollini miei cari e sosteniamo un po questo canale che sta cercando di portare sempre più contenuti ogni settimana ma adesso finito il momento pippone marchettone incredibile andiamo a fare un test pazzesco e meraviglioso collegando questo giochettino qui bellino belluccio al mio mac e vi faccio vedere cosa è possibile fare con road central come è possibile regolare in maniera diversa questo microfono e utilizzarlo al 100% e non al 50% che è il modo classico di utilizzarlo collegato direttamente alla camera dove il volume lo gestiamo direttamente quello in camera e ce lo teniamo così come ma possiamo modificare tutto andiamo di là a vedere eccoci qui sul computer abbiamo road central pronto già installato che ci riconosce subito col cavetto che esce in dotazione ma io ad esempio sto usando il cavetto del road wireless go 1 e funziona uguale l'importante è magari che sia un cavetto dati buoni in modo tale che comunichi possibilmente meglio se della road ma comunque esce in dotazione quindi andate tranquilli abbiamo la possibilità di attivare o disattivare un pad cioè un attenuatore che abbatte di tanti decibel ovvero similmente almeno 10 o 20 è fondamentale quando usiamo riprendere un qualcosa di estremamente potente come volume vi faccio un esempio avete sentito come quando attivato il pad è calato sensibilmente il volume volume che possiamo regolare adesso è al minimo che è comunque un volume buono dignitosissimo vediamo che ce la fa egregiamente come volume come qualità anche perché abbastanza in prossimità della mia bocca il microfono ed è ideale questa situazione quando facciamo gaming quando facciamo call magari più professionali delle semplici call tra parenti live su twitch su youtube su qualsiasi altro tipo di social ed è uno strumento veramente perfetto anche perché veramente sta lavorando se ci pensate come scheda audio una volta collegato il microfono installato il road central vi installerà dai driver e potete notare che lo troverete qui nell'elenco delle vostre periferiche audio esattamente come se fosse una scheda audio io ho collegato le mie cuffie direttamente al microfono guardo lì perché ho il monitor lì di riferimento della fotocamera sostanzialmente ci permette di monitorare quello che stiamo facendo ora lo vedremo questo fatto il gain ovviamente lo possiamo aumentare come notate c'è subito un bel boost di volume fino ad arrivare alla distorsione anche se questa voce diventa molto calda molto molto buonasera cipollini torniamo normali però perché sennò poi diventa un porno e non è più una video recensione abbiamo un high pass filter cioè sostanzialmente un filtro passa alte che permette di tagliare via tutto il classico boom cioè quella eventuale risonanza che è data magari da dei loop elettrici piuttosto che da un condizionatore o quant'altro e può avere un taglio a 75 hertz a 150 hertz oppure possiamo spegnerlo e abbiamo anche un boost delle alte frequenze che può essere attivo o disattivato sostanzialmente da dare un po di chiarezza come potete sentire la voce quando è attiva e la rende un po meno radiofonica mentre quando è spento invece il boost la voce più cupa più radiofonica per certi versi abbiamo il direct monitor che sostanzialmente è il volume delle cuffie non lo potete notare probabilmente voi ma abbassa il volume delle cuffie e può essere anche disattivato a cosa serve questo live monitor facciamo finta che noi stiamo acquisendo per esempio un video ecco perché c'è il mio canale di sottofondo e abbiamo bisogno di sentire in cuffia il video ma non registrare l'audio avere soltanto le immagini per magari commentarlo allora noi lo premiamo io adesso in cuffie lo avete sentito scusate per il fischio si sente ma non viene registrato se andiamo a fare i pignoli un po rientra quindi si sente ok però di base è un ottimo strumento mi sarebbe piaciuta la possibilità di inserire anche in real time l'acquisizione del suono interno del computer non si può fare se si sta usando questa cosa quindi questa è una piccola pecca di probabilmente magari qualcosa che potrebbe essere anche sistemato con un nuovo firmware non so se mai qualcuno della road guarderà uno di questi i miei video e se trova questo video signori della road mettete la possibilità di monitorare anche il suono interno del computer torniamo alla recensione in conclusione a chi consiglio questo microfono partiamo da un presupposto è un super cardioide quindi non è come il road video micro è un pochino più direzionale è un pochettino più preciso nell'appuntare il nostro personaggione che stiamo intervistando quindi magari a chi fa interviste magari anche a chi fa vlog perché tiene comunque la camera abbastanza direzionata verso se stesso a chi fa matrimoni sicuramente perché è un ottimo mezzo per riprendere letture e promesse a chi fa documentari in genere nella vita a chi produce contenuti a chi è un creator a tutti anche perché 111 euro per un microfono di questa qualità sono veramente pochi mi dico la verità poteva costare tranquillamente 200 euro avrebbe sempre comunque avuto un buon rapporto qualità prezzo per come la vedo io se vi state chiedendo ma vale la pena fare un upgrade dal road video mic go la versione 1 sì perché quello a confronto è una cacata in generale quello è il peggio riuscito della serie road economica se volete fare un upgrade dal road video micro vi dico attenzione attenzione nel senso che sono microfoni diversi con diagrammi polari completamente diversi quindi attenzione cioè completamente no comunque molto diversi quindi probabilmente se dovete scegliere tra l'uno e l'altro magari questo è più moderno ha molte più funzioni le abbiamo viste ok se potete permettervi il lusso di averne due non vi fate troppi pensieri non date via il road video micro perché comunque quello rimane secondo me top da avere soprattutto per chi fa vlog e contenuti su youtube instagram o quant'altro vi ricordo che alla fine troverete una playlist pazzesca universo audio dove raccolgo un po tutte le recensioni consigli del mondo dell'audio professionale per tutto quanti nuovi videomaker belli e bravi in descrizione trovate anche il link al mio corso audio professionale per video di qualità vi consiglio di dargli un'occhiata perché comunque li sono sette ore di corso in cui spiego veramente tanta tanta roba lo trovate linkato qua sotto e può essere veramente una cosa utile per i film maker che vogliono diciamo implementare un po' loro know how nel campo dell'audio professionale e alla fine vi lascio anche pillole di filmmaking che è la playlist che sto facendo insieme al buon lucas comparin anche lì tanti consigli tante idee in tono magari un po' più scherzoso però comunque diamo delle pillole che secondo me possono essere importanti per chi si approccia al mondo del filmmaking noi ci vediamo in una prossima recensione io vado a godermi il mio bellissimo road facendo delle interviste così a degli sconosciuti un po' la cazzo di cane perché lo voglio testare ancora un po' noi ci vediamo in un prossimo video vi voglio bene ciao cipollini